Il Consiglio Comunale dice sì al money transfer. Il Consiglio Comunale dice sì al money transfer. Buonasera, ben ritrovati al nostro notiziario della sera. Apriamo questa edizione con le notizie provenienti dalla questione dei phone center che hanno reso incandescente il Consiglio Comunale di Arezzo. Sono cambiate infatti ancora le regole in questo ambito. Vediamo il servizio. I phone center della città di Arezzo potranno tornare ad ospitare servizi finanziari con il cosiddetto money transfer. La decisione è stata presa dal Consiglio Comunale di Arezzo. La proposta era arrivata da Roberto Barone. Al termine della discussione del Consiglio Comunale del 25 settembre, il consigliere dell'Italia dei Valori aveva accettato la proposta del sindaco Giuseppe Fanfani di sospendere la pratica in attesa di approfondimenti e verifiche con Banca d'Italia e Guardia di Finanza sollecitati in aula dall'assessore Stefania Maggi. Dopo i chiarimenti del caso arriva la modifica. Il regolamento di Polizia Urbana è entrato in vigore nel 2012. L'orario di trasferimento del denaro potrà essere soltanto dalle 7 alle 23 e non più 24 ore su 24. Si eviteranno così trasferimenti di denaro in orario notturno, considerati più a rischio dalla Guardia di Finanza. Precedentemente il regolamento viettava in maniera esplicita il servizio di money transfer all'interno dei phone center, una decisione che aveva sollevato la perplessità della Confcommercio, la quale aveva parlato di pregiudizio e del rischio di gettare una pericolosa ombra di sospetto su un'intera categoria di cittadini. Il servizio di money transfer ha avuto una forte diffusione negli ultimi anni. Questo tipo di attività vengono utilizzate soprattutto da cittadini immigrati per inviare denaro alle proprie famiglie all'estero. Realtà imprenditoriali sviluppate spesso all'interno di phone center e di piccoli alimentari gestiti da stranieri. E sulle novità riguardo i phone center è intervenuto anche Francesco Francini, capogruppo del Popolo della Libertà al Comune di Arezzo. La scelta che Sinistra, PD e Popolari hanno condiviso stamani e ha spiegato è pericolosa. Avere eliminato dal regolamento di Polizia Municipale il divieto di abbinare due attività chiaramente diverse, quali il money transfer e i phone center, apre una porta pericolosa. Sui money transfer talvolta gravano ombre che continuano a non essere dissipate e il loro abbinamento adesso possibile ai phone center renderà certamente più difficile il loro controllo da parte delle autorità. E l'assessore Stefania Maggi invece evidenzia come l'approvazione di questa pratica si è avvenuta con la stessa maggioranza che nella commissione competente del Senato si è pronunciata a favore dell'abolizione del reato di clandestinità. PD, Scelta Civica, SEL Sinistra e Movimento 5 Stelle. Noto, scrive la Maggi, analogia fra i gruppi senatoriali e consigliari che si sono espressi negativamente in entrambi i casi. Ancora alta la percentuale di bambini toscani obesi. Una sana nutrizione passa anche dai banchi di scuola. Vediamo. Su un campione di oltre 2.000 bambini toscani di terza elementare, quasi il 20% è obeso. Numeri che è possibile contrastare solo attraverso un'efficace cultura della sana nutrizione che dica no ai cibi di plastica e riparta dai prodotti dei nostri orti anche a scuola. Questi ed altri problemi sono stati al centro dell'incontro organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione dal Comitato Biologi Nutrizionisti di Arezzo. E in Toscana più che mai la sana alimentazione passa necessariamente per la salvaguardia del patrimonio agroalimentare. Senza l'agricoltura questo tipo di alimenti non ci sono. E quindi è da lì che si parte e è da lì che si deve anche nel futuro continuare a partire. Dobbiamo combattere gli alimenti di plastica e gli alimenti inventati in laboratorio e dobbiamo invece ripartire dai prodotti che nascono dalla terra e su quella costruire una sana e buona alimentazione. In funzione della nostra salute ma anche della nostra psiche, della nostra mente che quando mangia bene si sente ancora meglio. Secondo il rapporto Occhio alla Salute, dal 2008 al 2012 in Toscana la percentuale di bambini definiti fisicamente non attivi è passata dal 21 al 12%, mentre cresce dall'11 al 27% quella dei minori che ogni giorno fanno una merenda adeguata. Segno che con una corretta educazione si possono ottenere risultati importanti. In Toscana diverse scuole nelle loro mense adottano i cosiddetti cibi a chilometro zero, educano i bambini al consumo corretto soprattutto di frutta, verdura e pesce che sono gli alimenti che i bambini amano di meno ma a cui vanno educati. È un amore a sé e all'ambiente in cui vivono che educa i bambini a mangiare sano. Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sull'omicidio-suicidio di Alexandra Buffetti e Christian Rigucci avvenuta la notte scorsa a San Giustino Umbro. Meno di due ore prima di ucciderla con tre colpi di pistola il ragazzo era già stato nella casa della sua ex. Durante la prima visita i due avevano litigato. Alexandra però non era sola. Christian è uscito dall'abitazione verso le 11. Ad una sua amica, forse la stessa, che ha assistito alla litigata, Alexandra aveva raccontato di come ultimamente Christian fosse pressante. Il giovane infatti non aveva accettato la fine del rapporto. Le giovani eccellenze di Sansepolcro premiate con la borsa di studio dedicata a Dionisio Roberti. Vediamo insieme di cosa si tratta. È la cerimonia che premia le eccellenze di Sansepolcro ed è dedicata a Dionisio Roberti, padre Agostiniano Biturgenze, teologo, grande figura nella storia della letteratura italiana fra medioevo e umanesimo. Si è ripetuta anche quest'anno la premiazione per i ragazzi che hanno conseguito la votazione di 9 o 10 decimi al termine della terza media e 100 centesimi agli esami di maturità. 55 in totale i giovani premiati. Il premio Dionisio Roberti è uno dei momenti sensibili dell'assessorato alla cultura e all'istruzione. Ripaga di tanti momenti magari di più basso profilo. Questi ragazzi sono straordinari. Lavorare con i ragazzi, i risultati poi li vediamo. La sala affollata, i ragazzi emozionati e contenti. Il premio Dionisio Roberti ha dei contenuti molto, molto forti. Al termine della cerimonia i ragazzi hanno inaugurato la lapide che ricorda Dionisio Roberti collocata sotto le logge del Palazzo delle Laudi. Dionisio Roberti è uno fra i personaggi più importanti di Sansepolcro. Io dicevo prima dell'inaugurazione della scoperta della lapide a lui dedicata che trova spazio fra i pittori, i matematici e gli architetti di Sansepolcro. È sorprendente il numero di persone notevoli, di personaggi straordinari della città di Sansepolcro, di questo luogo di confine fra la Toscana e l'Umbria. Piero della Francesca, Luca Pacioli, la matematica del rinascimento passa di qui. Ma straordinariamente passa anche un preumanesimo con Dionisio Roberti, amico, confidente, padre di Francesco Petrarca e di Giovanni Boccaccio. L'ANAS ha annunciato che sono stati appaltati una serie di interventi di pavimentazione e manutenzione straordinaria su vari tratti della E45, sulle strade collaterali, in particolare sulla strada statale 73 bis della Valtiberina e sulla strada statale 73 per un totale di quasi 3 milioni di euro. Entro i primi mesi del 2014 è previsto un ulteriore appalto di manutenzione di un grosso viadotto. Infine sei ulteriori appalti sulla E45 sono inseriti nel cosiddetto decreto del fare e riguardano i lavori di adeguamento sistemico e di ripristino. Cultura della prevenzione per una crescita ecosostenibile. Il 24 ottobre ad Arezzo un convegno sulla tutela dell'ambiente in ambito aziendale. Vediamo. I reati di tipo ambientale commessi dalle imprese sono cresciuti costantemente negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda sversamenti di liquidi pericolosi nei corsi d'acqua o smaltimenti non corretti dei rifiuti. Ed è proprio per promuovere la cultura della legalità in questo ambito che giovedì 24 ottobre presso l'auditorium di Arezzo Fiere Congressi si svolgerà il convegno Cultura della prevenzione per una crescita ecosostenibile. Penso che le aziende aretine siano molto sensibili al problema, siano sensibili sia alla necessità di rimanere o se è del caso rientrare nella legalità anche sul piano ambientale, sia nella possibilità di comprendere come questo rientro o questa permanenza nella legalità sia anche di tornaconto dal punto di vista produttivo. L'iniziativa è promossa dalla Procura della Repubblica, Prefettura, Camera di Commercio della provincia di Arezzo e dal gruppo informale per la geotermia e l'ambiente GIGA. Al centro del convegno cui prenderanno parte tra gli altri il direttore generale del Corpo Forestale dello Stato Cesare Patrone e il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando ci saranno i modelli organizzativi delle imprese in relazione ai decreti legislativi 231 del 2001 e 121 del 2011. L'idea nasce da un'osservazione della realtà, da una parte un aumento delle rilevazioni delle infrazioni e dei reati in materia ambientale e dall'altra la constatazione è che in molti di questi casi la commissione dell'illecito era dovuta ad una scarsa cognizione, una scarsa conoscenza delle normative che sono certamente complesse e complicate anche da interpretare. Spessissimo le aziende cadono su problemi e su reati che sono addirittura di carattere penale e quindi la sensibilità che vogliamo portare su questo argomento a tutte le aziende del nostro territorio è importante e da questo ne deriva sicuramente un rapporto diverso tra impresa e territorio. Una modifica del regolamento della giostra del Saracino è stata illustrata dall'assessore al comune di Arezzo, Francesco Romizzi. Prevede che i componenti della giuria vengano scelti fra i nominativi indicati dagli ordini professionali della provincia di Arezzo. Prima di questa modifica erano esclusi gli ingegneri, architetti e geometri residenti nei comuni di Arezzo, Subbiano, Capolona, Monte San Savino, Civitella della Chiana e Castiglion Fibocchi. Nel frattempo l'istituzione giostra certifica di aver chiuso l'esercizio 2012 con un saldo positivo di oltre 1200 euro che pare modesto ma che conferma la capacità dell'istituzione di perseguire gli equilibri economici generali anche a fronte di una diminuzione delle risorse a disposizione. Famiglia ferita al via il percorso per aiutare separati e divorziati. Vediamo. Le persone che hanno subito una separazione non rimangono sole? Il consultorio della famiglia organizza dei corsi proprio per loro? Abbiamo pensato di organizzare un percorso da fare insieme proprio con persone che hanno subito una separazione di qualsiasi genere non necessariamente una separazione matrimoniale può essere anche la fine di una convivenza o di un fidanzamento lungo può essere una cosa recente ma anche una cosa che è passata da diverso tempo ma ancora fa soffrire. Saranno una sequenza di otto incontri a distanza quindicinale e daranno la possibilità alle persone di parlare insieme di confrontarsi, di conoscersi e di condividere un percorso di riparazione un po' della ferita subita durante la separazione quindi è un percorso che aiuta a elaborare la sofferenza per chi ancora ha in atto questo tipo di sofferenza. Questi corsi rappresentano un importante impegno del consultorio della famiglia? Il consultorio della famiglia oltre questi corsi segue e svolge attività consulenziale sia di coppia che individuale è ormai una realtà presente da diversi anni e la nostra sede come sempre è in via San Niccolò 51 per quanto riguarda questo corso per famiglie ferite così come viene chiamata chiunque è interessato può rivolgersi direttamente al consultorio nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19. Anche il nostro numero telefonico può essere utile è lo 0575 23 120. Siamo in procinto di partire con il corso quindi aspettiamo ancora le ultime iscrizioni. I tre circoli di tennis di Arezzo si uniscono per un progetto comune in ricordo di Carlo Pini il compianto maestro ha sempre desiderato una collaborazione tra Circolo Tennis Giotto Circolo Tennis Arezzo e Junior Tennis Club Arezzo per favorire l'incontro e la crescita dei più promettenti agonisti del territorio questo sogno è ora diventato realtà con il progetto Carlo Pini, progetto tennis un percorso comune intrapreso dalle tre società che per tutti i mercoledì fino al 19 di febbraio permetterà ai loro migliori atleti dall'Under 12 all'Under 16 di allenarsi insieme confrontandosi con coetanei di valore e permettendo così un complessivo sviluppo dell'intero tennis giovanile a retino. E ora un nuovo appuntamento con la nostra rubrica del mercoledì dedicata ai libri, vediamo Laura Walter propone un delizioso libro per ragazzi Zuppa fatata, zuppa stregata Il primo giorno dell'inverno le fate e le streghe si trovano assieme per preparare una zuppa speciale a base di ortaggi ed aromi vellutata quindi quella delle fate e pepata invece quella delle streghe Zuppe, cavoli, patate, finocche, carote, di tutto un piò però sono pieni di pesticidi e quindi la zuppa non funzionerà e che cosa occorre? Occorre la mano pura, anzi la pura mano di un bambino che in qualche modo rimetterà a posto le cose detta così quindi la trama per sommi capi è un libro per ragazzi appunto per le scuole elementari primo anno forse delle medie molto carino, semplice, che gioca con le fate, con le streghe ad esorcizzare un po' questo mondo fatato, incredibile che tanto appassiona i bambini il mondo della fantasia per avvicinarli anche ad un approccio sereno un approccio simpatico con che cosa? Con il mondo della gastronomia quindi questa diffidenza che spesso hanno i bambini nei confronti degli ortaggi e delle verdure beh, si può in qualche modo bypassarla con la lettura di questo simpatico libro di Laura Walter quindi Zuppa fatata, Zuppa stregata Tornano gli appuntamenti dell'Ecomuseo Sapori d'autunno, le feste della castagna del Pratomagno casentinese e la rassegna Tempo di Castagne e Tempo di Veglie tra le novità del 2013 le iniziative culturali e gastronomiche realizzate nell'ambito della manifestazione L'arte del gusto, il gusto dell'arte ma anche due importanti momenti di riflessione e approfondimento dedicati rispettivamente alla valorizzazione del patrimonio culturale in montagna e alle forme di ritualità e teatralità tradizionali dell'Appennino si parte sabato 19 ottobre dalle 16 in poi all'Ecomuseo del Contrabbando di Chitignano con un laboratorio ludico ricreativo e con questo si chiude il nostro notiziario vi lascio alle previsioni del tempo a voi tutti un buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci Grazie a tutti